Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 rallentamenti tra Barberino di Mugello e Aglio in direzione Bologna. In Fibillet rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla statale Trebbi Stiverina tratto e svincolo chiusi per lavori tra Val Savignone e Pieve Santo Stefano Nord. Per questi lavori è attivo uno scambio di carreggiata tra Canili e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Viterbo Terni. Riduzione di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. A Firenze traffico intenso in zona Fortezza da Basso e in Viale Volta. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!